Pronto? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri al blog di Visto, tanti auguri a te. Wow, wow. Non so in quanti ragazzi vi hanno cantato la canzoncina. Allora, si dico... E se l'hanno fatto, e se l'hanno fatto, cancello. Che l'unica che ha cantato la canzoncina è una che è bella come te, simpatica come te, divertente come te e che ha un grande successo come te, soprattutto sul nostro blog, che è Sara. Ti ha cantato tanti auguri al blog, però avete cantato una canzone diversa, quindi va benissimo, grazie. Anche la Sara ha cantato, vedi tanto canterine, dobbiamo fare un rap di la Sara, vedi? Wow, tu e la Sara che fate una canzone insieme, è top delle vendite, quasi quasi, quando la penso glielo propongo, eh? Vero? Si può fare, noi siamo sempre aperti a nuovi aspettative, nuovi progetti. Due super belle, bene bene, sento la piccola, il po' più fondo, vuole fare gli auguri? Anche lei, è ovvio, ormai fa parte anche lei, hai visto? E beh, certo, tutta la famiglia ormai fa parte. No, ragazzi, un anno siamo arrivati? È un anno, è un anno. Ti ricordi l'anno scorso, quando eravamo in prossimità della vostra elezione, tu e di Alberto, come coppia dell'anno, è cominciato così il blog? Mi ricordo sì, guarda, mi ricordo anche quell'intervista fatta, io, Alberto, te e Michico Spadoni. Eh, un mito, te la ricordi? Me la ricordo sì, a te mi mette in mente, so, delle immagini... Adesso sono indecisa se replicarla o se farvene una nuova, ma quasi quasi ve le faccio una nuova, che dici? Una nuova, se mai lì puoi fare il meglio di, ci butti dentro tutte un po' di immagini, di cose, lo butti su così, il meglio di... Sì, oramai, sei praticamente una giornalista di visto, stai lì, dai idee, dai cose... No, no, non voglio rubarti il lavoro, io posso essere una... Vai in cucina, vai! Tu sei soffila e devi stare in cucina! Le donne devono stare anche in cucina, sì, cavolo, come va? La donna che non cucina è mezza donna, secondo me. Oh, meraviglia, ma invece il figlio che cucina tanto è due donne in una. E due donne in una. Perfetto, ti ringrazio tanto per gli auguri. Come ogni volta invece parliamo sempre d'altro, è vero? Ehi, tanto per il blog, ehi! Bene, allora tanti, grazie per gli auguri, tanti auguri a te per la tua rubrica, che te li faccio al nome di tutti i ragazzi. Siamo in attesa della prossima puntata e di novità che non possiamo rivelare. Bravissima, non diciamo più nulla, non andiamo via qui, vieni. Allora un grosso bacio, grazie. Ciao tutti, ciao 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 Ciao